Diciamo qualcosa riguardo questa polemica oppure dialettica che c'è stata tra il Comune dell'Aquila per la mancata presentazione del progetto L'Aquila ci sta per la cultura, il capitale della cultura del 2019? Sì, io non voglio fare nessuna polemica perché non mi sembra il caso e andrebbe a tutto svantaggio la città dell'Aquila. Il mio ufficio nella persona della dottoressa Gianmarco fu un paio di mesi fa contattato al Comune dell'Aquila che chiese la possibilità di avere uno spazio per presentare giustamente e degnamente questa candidatura ad essere città della cultura del 2019, mi venne detto questo, io subito dissi di dare la massima visibilità e infatti fu preso un'ora centrale come quella delle 5 di pomeriggio nella giornata di domenica che è la giornata di maggior afflusso insieme al sabato, rimanemmo d'accordo e si doveva fare questa presentazione. Al di là, se io non ero presente, oltretutto ero malato e ci sono le prove, io penso che la Regione abbia dato la massima visibilità a città dell'Aquila, tant'è che è stato inserito anche negli opuscoli che abbiamo distribuito all'Universo Mondo, quindi poi era il Comune che doveva essere lì presente, non so rappresentato a chi, se dal Sindaco o a chi per lui, per presentare appunto in questa chermesse nazionale la candidatura a città dell'Aquila. So soltanto che questa ora è andata a buca e abbiamo rimediato diversamente, né più né meno.